Scatto al centro, vede la Roma, arriva Canici davanti alla porta, non si sbaglia. Palla, golle, palla al centro, palla fuori, golle, contropiede, errore, rovita, ma si ferma, golle, la palla è ferma, due, gran batta da fuori, è lì, finisce, perfetta parità, 3 a 3 al termine del primo tempo. Palla con deviazione, palla di Martire che tira sempre sulla stessa traiettoria. A.M. Tempo sindico. Il nuovo è dalla lunga, il mancino, va a tirare sul lungo, è un luogo in più dalla Roma. E trovano Francesco Coraglia, invece questo famoso, l'errore di posizione della Roma. Coraglia si fa il cambio di campo, con le formazioni in perfetta, a parità. Il posillico, palla a Canici, volo, grande tira al volo, golle. Coraglia, palla 1, il mancino, prova l'angolo basso, numero 7, paula, numero 8. Viglia, guarda una mano. Per esempio, Roma 8, circolo, canottieri Napoli, 12. Chiara, 2. Chiara, angegta, 3. Chiara, 2. Per esempio, Roma 8, circolo, Grazie a tutti.